Sono giorni decisivi per il destino del porto dei Nebrodi di Sant'Agata Militello. C'è forte preoccupazione per l'avvio del cantiere a seguito degli sviluppi giudiziari che hanno interessato la Tecnis SPA a cui è collegata la COGIP assegnataria dell'appalto. A tal proposito, il sindaco Sottile ha comunicato di aver chiesto un incontro con il commissario straordinario dell'impresa, Saverio Ruperto. Considerata l'interdittiva antimafia della prefettura di Catania su Tecnis COGIP e il recente relativo sequestro, scrive Sottile, è necessario concordare e verificare le ulteriori procedure per la definizione dei procedimenti in corso per giungere all'avvio dei lavori nel più breve tempo possibile. A chiarire lo stato dell'arte è il RUP dell'opera Basilio Ridolfo. Il mutato quadro dirigenziale della COGIP con l'amministratore giudiziario potrà portare al sollevamento di questa problematica dell'interdittiva antimafia e quindi riaprire il ragionamento. Si sta cercando un colloquio con la COGIP, con l'amministratore giudiziario, con il professore Ruperto per capire il da farsi in relazione alla loro capacità di poter affrontare l'appalto. Nel momento in cui per una qualunque ragione non si dovesse giungere ad una positiva conclusione con la ditta, quali scenari potrebbero aprirsi? Gli scenari sono diversi perché innanzitutto bisognerebbe avere contezza dello status del contenzioso in generale e quindi capire se le norme anche al momento in cui è stato fatto l'appalto consentivano ad esempio lo scorrimento della gradatoria e quindi capire se le altre ditte in relazione al contenzioso sono nella possibilità di poter fare l'appalto oppure in ultima analisi dover fare un nuovo appalto e in questo caso emergerebbe il problema dell'aggiornamento dei prezzi.